Facciamo tipo un percorso e tipo mettiamo cose che danno velocità, speed... Bello dai, che figata! Grazie a tutti! 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 sono scusate sto andando in retromarcia ok non è stata sicura di andare in retromarcia no quanto odio questo qua questo bouncer può essere un po' strausato per citare però non si riesce aiuto non ce la faremo e che ma ce la facciamo in un peso di risultati sei sicuro non è che dobbiamo riavviare il timer scusa no da si è volato via tipo la scena di editor e vieni giù vieni giù dai vieni giù no scusa no no vieni giù ti obbligo mi hai visto la cosa che avevo voglia tutto 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 no ho preso un botto di tagli ancora un po impari la sofferenza hai visto si è già fatta che è successo no 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 oddio mi sei pagato il kart ok ok ah 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 aiuto asilio asilio aspetta 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 vecchio aspetta vecchio c'è sta parte impossibile asilio ritorna all'inizio ti prego no 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 vecchio mi sa che c'è una parte che è letteralmente impossibile ahahah ti sto vedendo saltare come il giudatore grava non mi fa andare non mi fa andare aiuto ti senti ci sei te no 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 ma adesso Diego di nuovo in pesca VEI BØ vecchio 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 siamo pagati un po' non ti dico neanche dove sono, guarda vabbè ah, aiuto, aiuto aiuto ma perchè ogni volta chi m'è con quel bouncer mano la mafia dei bouncer stico mancano 13 minuti che ci risca per finire in circuito vecchio c'è una pasta che l'ho reso troppo difficile mi sa lei è stato troppo difficile ci uccido eh che cazzo hai compilato che cazzo hai compilato io giù 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 quale cosa è che io non ho è troppo giù via vedi dal ad inizio sinceramente mi piacerebbe ma non ci riepisco più giù aiuto vuoi continuare a distruggere buona vecchio posso dire una cosa cosa ho finito il percorso per questo abitato io ho già lo mio scratch quindi no vecchio devi arrivare fin qui eh non puoi spararmi solo che troverai un altro stacco con la mia carta che sei incastrato no non puoi non puoi ti devo uccidere finchè non finisco il percorso no finchè non finisco il percorso non puoi ciao 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 tutto adesso mi significa a serio a serio non sei un gatto dai ti faccio 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 no ma solo ti faccio ti faccio ti faccio c'è il mio card che si sta pagando male con la zona mi sta facendo pure aspetta ok ok io non vedo l'ora sono salvo sono salvo ma ciao non sto andando ahahah te ti faccio ahahah ahahah attido va beh io azzilio potresti aggiustarmi muonchini che sono lotto io ho piacere ti prego facciamo un respon .. facciamo che puoi ora aspetta ho dieci minuti attidio non ce la farò mai dove sei? no vecchio facciamo che ti faccio fare un checkpoint in gioco sosta posto ma che fermo fermo ti fermati non ti muovere l'ultimo nel segno di passato cartmanoma esprima d'acqua uno d'acqua ma non sono leale quindi faccio di tutto da inizio non so come se che lo scopo non come non come te E io ho fatto il mio figlio. Ah, ti non lo fai capire, non lo fai capire. Ti tengo su io. Non ti preoccupare, ti tengo su io. Ah, giustamente te l'è mura che sono rotta, che piacere. Ok. Ecco, bravo. No. 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 C'è che il nostro è l'unico per questo che rimaneva da chiudere. Che sfiga. Aiuto. No. Tu l'età poi non siete un buon amico, eh. Te lo dico, io l'ho sigillato. Io ho meno. Basta. 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 Ti arrendi. Aiuto. 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 Che cosa fai? Addio. Che cosa fai? Non ce la faccio. Io, aiutami. Se cadi, guarda. Ok. 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 No. 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 Che vero. Che vero. Che vero. Ok. No. 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 Lo sei. Attilio. Aspetta. Ti arrendi? No. Tu sei l'aiutante di aggiustare del mio avronto. no. Che bene. che cosa fai? Che cazzo, Irinit! La pista che è corpendo. Ma non sono cosa fai. Aspetta. Ma aspetta non è divertente. Ah sonia. Assisti. Assisti. Multi cruise sur song. Così. Dallate, dallate, dallate. infraver blev.. Massi. Dallate là.. �a là là... Dalla! Dopo svariati tentativi, finalmente ce la fa ad arrivare avanti. Però purtroppo, a un certo punto, succede una cosa. Oi, ci sei pronto? Perché? Non rispondi? Oh mio Dio, no, è crashato, non ci posso credere. C'è arrivato avanti fino a questo punto per poi crashare? Vabbè, noi ci vediamo al prossimo episodio intanto. Bella partita.